La finalissima playoff del Girona F è Pesaro Olimpia-Agnonese, un vanto per i molisani il cui percorso non si è interrotto alla 34esima giornata di campionato. A seguire c'è stato l'esploadima telica e domani atto conclusivo della lotteria playoff. Ancora dubbia la presenza dell'attaccante Margarita, vittima di un edema al ginocchio. Il giocatore si è allenato regolarmente ma potrebbe comunque essere preservato dal tecnico del grosso. Quest'ultimo dovrebbe tendere a schierare lo stesso 11 che a Matelica una settimana fa si è regalato la finale playoff vincendo 3-1. In grandissimo spolvero Guida e Ragazzu, due dei tre marcatori di domenica scorsa, con Gentile che partirà più arretrato sulla fascia destra. Il Benelli di Pesaro sarà sicuramente gremito, non mancherà il supporto del pubblico molisano. Sono stati allestiti due pullman che seguiranno la squadra nella lontana trasferta marchigiana. C'è da dire che molte famiglie altomolisane hanno colto la palla al balzo per abbinare la partita all'aspetto turistico. Tanti gli agnonesi in viaggio già da oggi per trascorrere un weekend all'insegna del mare con annessa finale playoff prima di riguadagnare la strada di casa. L'avversario dei Granata è quotato, ha chiuso al quarto posto ma è sicuramente la squadra che ha impressionato in maniera più favorevole in campionato. mister Sassarini gioca un calcio geometrico ed armonioso e può vantare nelle proprie fila uno degli attaccanti più prolifici del girone, cioè Costantino. La vincente delle nove finali playoff acquisisce il diritto a rientrare in una graduatoria da cui eventualmente la Lega Pro può attingere per i ripescaggi. In realtà i criteri sono molto più stringenti, vedi la possibilità di versare un fondo perduto di 250 mila euro, una struttura idonea per la vecchia Serie C e tra gli altri lo stesso bacino di utenza. In generale si può dire che chi vince i playoff potrebbe iniziare a muovere i primi passi verso l'idea di un ripescaggio. Agnone, come piazza calcistica, si trova meritatamente in finale contro il Pesaro ma potrebbe non avere grossi punteggi quanto agli altri criteri sopra menzionati. In Alto Molise il pensiero è rivolto anche al futuro. Sembra che la società attuale abbia manifestato una certa stanchezza riguardo una prosecuzione del discorso calcio. In tal senso si starebbe attivando il primo cittadino Marco Vecchio per garantire una continuità al calcio cittadino attraverso il coinvolgimento anche di altre forze imprenditoriali del posto. Tornando al calcio, domani al Benelli ultimo atto finale playoff tra Pesaro ed Olimpia agnionese. Se dovesse finire in pareggio via ai tempi supplementari, dovesse persistere la situazione di parità, allora la finale andrebbe al Pesaro classificatosi meglio rispetto agli altomolisani. La finalissima playoff sarà diretta dal signor Longo Di Paola.